Allora, Professor Zuin, recentemente, il 4 ottobre, con ENI e CFS, Commonwealth Fusion System, è stato raggiunto un altro grande risultato per la fusione nucleare. Siccome si ne legge sui giornali a grandi linee, ma non è facilissimo per noi comprendere di che cosa si tratta e che risultato è stata raggiunta? Allora, ENI si è molto impegnata negli ultimi anni nel campo della fusione nucleare e non è il solo esempio di interesse privato. Sono circa una ventina, direi quasi due dozzine, le aziende private che nel mondo hanno cominciato ad affacciarsi alla fusione nucleare perché ci si è resi conto che in effetti l'obiettivo probabilmente comincia ad avvicinarsi. Uno dei risultati principali che ENI ha ottenuto in collaborazione per esempio con i miei colleghi che sono uno spin-off dell'MIT riguarda la realizzazione di campi magnetici di altissima intensità, cioè campi magnetici prodotti, i campi magnetici sono molto importanti per la fusione nucleare perché quella che in particolare per esempio studiamo a Padova si chiama la fusione nucleare a confinamento magnetico, cioè l'obiettivo è quello di tenere confinati, si dice, questi plasmi a tali temperature e non lo si può fare con un contenitore che sia esclusivamente materiale perché non esistono materiali che siano in grado di sopportare tali temperature, esattamente, qualunque materiale portato al di sopra di qualche migliaia di gradi tipicamente se passa allo stato gassoso, quindi quello che noi facciamo è creare dei contenitori che sono contenitori virtuali, cioè contenitori costituiti da campi magnetici, le particelle cariche che costituiscono il plasma sono costrette dal campo magnetico a restare in una certa regione dello spazio, quindi tutti gli effetti li stiamo contenendo. Questi campi magnetici più sono intensi, tipicamente più sono efficaci nel garantire la possibilità di arrivare alle condizioni di fusione nucleare. Eni è riuscita con un progetto a portare la realizzazione di campi magnetici estremamente intensi, posso fare un numero che forse non dice molto a nessuno, sono 20 Tesla, soprattutto utilizzando quelli che si chiamano dei super conduttori, cioè si usano delle bobine in cui passa corrente, che permettono di raggiungere queste condizioni a temperature non così estreme. Normalmente si lavora a temperature prossime a quello che si chiamano zero soluto, bisogna usare l'elio liquido, sono condizioni molto difficili. Loro sono riusciti a raggiungere queste condizioni a temperature un po' più facilmente sostenibili. Quindi un grandissimo risultato in prospettiva fusione. Ok, molto interessante.